e ciao a tutti ragazzi e poi vedendo questo nuovissimo video ci siamo anche per un nuovo unboxing che mi è arrivato un nuovo pacco e adesso andiamo ad aprire subito insieme e andiamo a vedere cos'è qui vediamo subito che c'è un bel cocanetto qui c'è una prima parte si può già intravedere possiamo un attimo la telecamera andiamo a prendere anche quest'altri e poi andiamo a prendere lp di cartone andiamo a vedere ok quindi lo mettiamo da parte e qui vediamo che abbiamo un lp dei u alessandra questo già cielo poi abbiamo dei lp dei u rotolando respirando alcuni che li ho già le lo metterò in venta uno perché qui ce ne sono due uno era in omaggio quindi io ne ho anche un altro e quindi lo metterò in vendita poi abbiamo questo che mi mancava giorni infiniti poi abbiamo viva eccolo qua e poi abbiamo asia e poi ovviamente ragazzi quello di cui ho preso questo lotto ovvero la cofanetta che uscì cofanetto che uscì in edicola con il corriere dello sport e la gazzetta dello sport i pu amici per sempre roby dodì stefano red completo di tutto ovviamente sono ancora tutti incelofanati li andremo a vedere ovviamente nel prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti